guarda, guarda, guarda luci nuove, stanza nuova audio che si dovrebbe sentire un po' meglio cazzo, sembro io Tobi che ha 62 mesi e poi torna con lo studio nuovo però, sembro, perché lui ha un po' più di... bentornati! e siamo qui dopo due mesi, di nuovo, su questo cazzo di canale chiedere alla regia un close up o qualcosa di più ravvicinato sì, però entro oggi, cioè siamo tornati, siamo tornati finalmente, eccoci qua, ho fatto un calcolo prima, il mio canale è attivo da 4 anni e mezzo pensate che più di 8 mesi sono di assenza in questo video che cazzo è un moscerino? in questo video cercheremo di rispondere al titolo di questo video, che in effetti avete ragione non è più di tanto il clickbait, potrebbe impegnarmi un pochino di più, perché effettivamente sono morto per due mesi sui social non esistevo su youtube, non esistevo su tiktok non esistevo nemmeno su instagram nemmeno su instagram che cazzo... come fai a non entrare su instagram in due mesi? ma mi spieghi la risposta sta qui in questi fogli di merda voi potete pensare che siano i copioni di questo video e io stia un attimino leggendo per capire che cazzo devo dire no! perché posso parlare anche senza quella merda lì questa merda qua con tutte queste fitte dentro non è il copione del video pensate che questi una volta erano degli alberi erano dei fottutissimi alberi che potevano fare un miliardo di fini diverse potevano diventare dei tavoli potevano diventare fogli da mettere sulla stampante della sede centrale di apple per annunciare il nuovo iphone apple xs bts z max pro plus e invece no! sono finiti nella mia vita di merda come appunti scolastici pirandello! mi spieghi io a 19 anni che sto facendo nella mia vita? sto studiando pirandello ed è questo qua il motivo per la quale jory è morto due mesi non è credibile vero? aggiungiamo anche il fatto che voglia proprio di fare video non ne avevo anche perchè parliamo parliamoci chiaro quattro occhi qua look at me a me devi guardare quando mai è entrato un video di merda nel mio canale? eh? non vale la risposta a tutti ho detto non vale la risposta a tutti video del cazzo del tipo scherzo epico finito male faccio l'ennesima challenge che mi fa cagare al cazzo io non l'ho mai fatta ricordate sempre che la vita fa schifo grazie a tutti quanti per il vostro amore per il vostro supporto che mi date anche perchè quando facevo video ero bloccato a 68.000 iscritti da quando non faccio video siamo quasi 70.000